Siamo con Alessandro Meluzzi, medico psichiatra e responsabile scientifico di Mai Più Soli. Che cos'è questa? Ce ne parli un po' lei. Mai Più Soli è quello che noi vorremmo per tutti noi, evidentemente, perché la prospettiva di essere soli non è mai una cosa gradevole in nessuna età della vita, men che mai in quelle fasi della vita nelle quali noi avvertiamo un po' di più certe limitazioni che vengono dalla biologia, dai limiti del nostro corpo e anche talvolta magari da una caduta del nostro umore. Mai Più Soli ha però un piccolo seme velenoso nel proprio titolo, perché Mai Più Soli implica il fatto che qualcuno, almeno una volta o in qualche circostanza, si è già sentito solo. Quindi Mai Più Soli vorrebbe essere la risposta, evidentemente data anche con l'aiuto di una tecnologia molto moderna, per poter avere il supporto di uno strumento di comunicazione efficace, efficiente in tempo reale e per poter non soltanto chiedere aiuto, che evidentemente è la situazione estrema, che ahimè in qualche circostanza si può anche realizzare perché ci sente male, perché si ha un attacco di paura, perché si ha la sensazione che qualcuno stia forzando le pareti, le porte della nostra casa, ma anche semplicemente per chiedere un consiglio, per chiedere un suggerimento, per chiedere un appoggio e quindi avere a disposizione uno strumento che di per sé sarebbe nulla, se non fosse che collegato a una centrale intelligente, dove ci sono persone umane ed empatiche che gli danno una risposta. Questo è il vero nodo, mettere insieme la qualità dell'umano con la qualità del tecnologico, e quindi disporre di uno strumento che è un braccialetto, che è un collare, che è un device di qualsiasi natura, ma che però consente alla persona, direi di tutte le età, anche alla donna che va in un parcheggio, o a un taxista che guida, o a una persona che vive sola e che soffre di una patologia, o di nessuna patologia, o che ha la tendenza ad avere crisi d'ansia e attacchi di panico, uno strumento tecnologico per potersi connettere con una centrale umana e intelligente. Questo è in sintesi mai più soli. Come si fa a cercare di portare anche un pubblico senior, come lo definiamo, ad affidarsi a una tecnologia che di per sé normalmente a volte c'è una barriera da superare? Io direi che questo concetto è un po' superato, nel senso che ormai i telefoni cellulari sono talmente penetrati, gli smartphone, anche nella cultura della terza età, da mettere direi addirittura gli anziani in condizioni di dare dei punti in termini di efficacia, efficienza, competenza, anche l'uso di uno smartphone e loro nipoti. Quindi direi che questa tecnologia è una tecnologia che unisce, che supera delle barriere, che supera anche dei gap umani e biologici nel nome di una intelligenza diffusa in rete che il nostro device consente di avere.